signori buongiorno se anche voi guardate ancora la tv tradizionale sapete bene quanto è snervante passare tra un canale e l'altro per quanto riguarda la velocità soprattutto con i canali in hd guardate questo televisore sharp che è molto lento nel cambio canali con apple tv un'applicazione completamente gratuita con quale velocità fa lo switch canali tra i preferiti che ho aggiunto qui sopra i canali sono tantissimi all'interno di questa applicazione ed è completamente gratuita guardate entro su italia 1 gli do un tap sono all'interno del canale potete anche tranquillamente metterlo in pausa perché ovviamente è tutto live quindi potete andare in bagno tornare e continuare a guardare il vostro programma e ovviamente con un tap indietro ritorniamo all'interno di tutta la lista dei canali ripeto un'applicazione gratuita si vede tutto in hd è davvero ottima se ne avete bisogno avete un apple tv scrivetemi in direct che vi do il link cliccabile dell'applicazione stessa secondo me fantastica funziona ovunque tanta roba qualità top ve la consiglio ciao